bella, in realtà me la do veloce ciao, IOF, si ragazzi vi giuro che adesso entro, datemi un attimo un secondo per favore e una spazzola, si hai origini stranieri? no, non ho origini stranieri hai incontrato Fedez a Milano? no, volevo incontrare Adam Sandler perché era nei giorni in cui ero io nel mio stesso hotel quindi le probabilità che io incontrassi Adam erano altissime però non l'ho incontrato, infatti ci sono rimasto stramare perché all'ingresso del mio hotel c'erano un sacco di ragazzi seduti sempre a qualsiasi ora del giorno della notte ad aspettare che uscisse probabilmente a me capitava di uscire, di passare da lì io dovevo che tutti aspettavano dicevo boh magari mi capita di incontrarlo e invece l'ho incontrato quindi proprio una roba assurda però dove ho preso gli orecchini? gli orecchini li ho presi in un mercato questi qua a Dubai li ho presi però se vai in qualsiasi orefice e gli dici voglio degli orecchini rotondi a cerchio te li fa su misura ok dai direi che ora va meglio è la luce che è sempre un po' un disastro ma io ormai ci ho perso le speranze perché quando sono in live non riesco a trovare mai una luce decente forse questa è l'unica parte in cui c'è una bella luce le lentigini sono naturali sì sono naturali le lentigini adesso sta arrivando l'estate quindi mi riempirò già adesso mi sono riempita solo che sono addormentata in spiaggia con gli occhiali e quindi mi sono uscite le lentigini qua 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 ma non qua perché avevo gli occhiali vabbè lasciamolo stare allora come posso fare? dimmi che non si sono cancellate tutte le pagine del computer ti prego ti prego no non si sono cancellate che culo allora vediamo così vediamo se riesco a fare questa imprese no secondo me non ci riesco allora quando l'hai su F sono ora su F quindi se vuoi scrivermi cosa deve essere il comunismo? meglio se non parliamo di politica soprattutto in questo periodo vi prego non facciamo una roba del genere si si riempiono gli occhi con le onde del mare ogni volta che va male ne dobbiamo parlare no non mi sono fatta su ora non posso dirvi perché ho scritto quella roba però non mi sono fatta su ora se a Milano no non sono a Milano auguri mami grazie raga grazie per gli auguri però io festeggio l'otto alla festa della mamma non domenica ci si riempiono gli occhi con le onde del mare ci si riempiono gli occhi con le onde del mare non dobbiamo parlare complimenti per i tuoi contenuti su F sono bellissimi grazie che dolce mi fa piacere che vi piacciano sono i pensieri delle gold digger io penso che ognuno può fare quello che gli pare se loro sono contente e i ragazzi in questione sono contenti why not no vabbè assurdo no è successo un disastro un disastro assurdo cazzo allora ho un grossissimo problema stavo aprendo un messaggio e ovviamente i bug di OF non mancano mai mi ha visualizzato tutto avevo circa 100-200 messaggi da leggere adesso non mi ricordo forse quasi 200 e niente riscrivetemi raga vi prego perché mi si è visualizzato tutto 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 eh se è un problema so come ringraziarti per gli auguri non mi che impazzirà top no raga vabbè ce l'ha ancora e se volete scrivermi io sono online a disperare però sono online vediamo se riesco a recuperare tutto disatto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.